agli alanzi, ecco che sta nel buco di neve guardiamo un po' qua sotto magnifico panorama luogo dei marci si trasacco vabbè prosegue la mia incantevole e magnifica escursione riparto qua da Ginebri si fa che c'è una cala di cinghiale si tracce di cinghiale qua vabbè prosegue ecco 50 anni fa tutto sono andato ma una volta c'è stata una cosa una pianta ceracea, venia terreno fettile e ora c'è un mace più ecco ah comunque c'è un mace questo percorso e vabbè adi rastagnito che cosa è questa a bojana che è questa a bojana non sa